Quali ragazzi vengono da Ebrut? Tutti, tre? Ok, questo discorso sarà in inglese, solo per voi, ma se alcuni ragazzi italiani hanno alcune domande, sono liberi per farlo in italiano. E ho tradotto anche per voi, ho tradotto la domanda e anche la risposta. E magari alcuni di loro vogliono ripetere in italiano alcune cose che ti descrivere, ma ho tradotto anche per voi. Questa è un'informazione su questo discorso. Inizio con il mio nome, perché sono Marcello D'Erisio, solo per farvi sapere. E ho messo il mio e-mail. Marcello D'Erisio D'Erisio D'Urba2.it Quindi, piaceremo per me, e ho provato a provare a te. E questa prima lezione è solo sull'introduzione delle cose. Quindi, potremmo non necessitiamo tutti i giorni. e vi mostrerò alcuni dettagli su questo discorso. Prima di tutto, il quale è il nome, il quale questo discorso è Avvanced Open Channel Flow e Perali Structure. E poi, descriveremo alcuni dettagli sui contenuti. Quindi, ciò che voglio insegnare e ciò che voglio imparare su questo discorso. Quindi, parleremo sui obiettivi del discorso. e, ovviamente, il mio approccio. Talmente, questa parte è la parte più importante per me. Quindi, l'approccio in cui ho usato per insegnare questo tema. E poi, alcuni dettagli sui programmi del discorso. E, ovviamente, i metodi, i metodi di insegnamento. E come ci sono chiesti di passare l'esame finale. Quindi, cominciamo con la storia dell'anigma. Quindi, perchè, parliamo di flotta open channel flow. Quindi, per capire che, parliamo di flotta di flotta di flotta. Con l'acqua e, in particolare, con l'acqua fresca. con l'acqua fresca. Quindi, parleremo di flotta di flotta di flotta. Quindi, il flotta di flotta fresca. E il fenomeno fisico. E le strutture idrauliche. con l'acqua fresca. Quindi, per esempio. In particolare, abbiamo bisogno di essere in informazione. Abbiamo bisogno di imparare. Abbiamo bisogno di imparare. Come designare strutture. con l'acqua fresca. E poi, per essere chiaro. Questo non è un corso teoretico. ma bisogna scrivere alcune equazioni. Bisogna semplificare. Bisogna soltare. Bisogna soltare. Ma anche bisogna soltare numericamente le equazioni di flotta. Quindi, abbiamo una parte diversa del corso. Inizio, cominciamo con le equazioni di flotta. Poi, semplificiamo le equazioni di flotta. Inizio, possiamo soltare le equazioni di flotta. Ma anche bisogna costruire numeriche. Per soltare le equazioni. Per ottenere numeri. Perché questo non è un corso teoretico. In altre parole, bisogna avere numeri. Per disegnare altre strutture. Quindi, in qualche modo. Camerà, potremo fare un po' di metà di flotta. In zero del corso. E per assicolare il rischio di idraulico. Quindi, ecco. Abbiamo anche alcuni nuovi scritti. La riscola, perché non sappiamo che il riscola è. ma anche bisogna disegnare strutture idrauliche quindi i punti sono hydrauliche, design e ovviamente equazioni il termine non è appena qui ma dietro questo slide abbiamo i modelli che bisogna soltare per disegnare strutture idrauliche ma perchè 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 credo che sappiate le basiche di idrauliche e strutture idrauliche quindi mi chiede se avete le basiche di idrauliche e strutture idrauliche all'altra quindi tutti noi sappiamo un po' di idrauliche quindi equazioni ma anche strutture idrauliche per esempio spill waste invece di rivela 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 in questi tipi in particolare parleremo di rivela 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 solo per esempio, perché dobbiamo trasformare questa struttura? Non so se potete vedere qui ci sono porti, questo è il nome corretto di queste strutture, porti movimentali. E perché dobbiamo trasformare questi porti movimentali, perché dobbiamo trasformare pietti qui, perché dobbiamo trasformare questa parte delle strutture, perché possiamo immaginare che l'acqua può trasformare in questa parte delle strutture ironiche. Quindi, perché le strutture sono lunghe, come possiamo vedere qui, perché non più lunghe o più lunghe. Potremmo perché abbiamo bisogno di qualche acqua di acqua per trasformare in questo canale, solo per esempio perché ho bisogno di qualche acqua di un'altra parte di salute. Quindi, dobbiamo capire di capire quanto grande queste strutture devono essere, in modo da soddisfare l'acqua di un'altra parte di strutture? Allora, alla fine del corso dovremmo rispondere alcune domande. Perché dobbiamo utilizzare queste strutture? C'è quanto più lunghe queste strutture devono essere in modo da soddisfare le necessità di acqua? Perché si posiziona qui quando l'acqua sviluppa qui? Perché qui l'acqua è verde e perché qui l'acqua è quasi bianca? C'è una differenza tra il flusso qui e il flusso qui. A questa parte del ritorno, un flusso discorso flusso verso l'interno strumento. Quale parte del discorso flusso qui e quale parte flusso qui? Quindi dobbiamo capire, prima di tutto, perché dobbiamo trasportare le strutture idrauliche. E poi come possiamo trasportare le strutture idrauliche e poi come possiamo trasportare le strutture idrauliche. Perché fare un'opera idraulica? Come fare un'opera idraulica? Come progettare un'opera idraulica? E come si realizza un'opera idraulica? Solo per esempio. Però, di nuovo, posso mostrarvi un altro esempio. Solo per esempio, questo è un teme, una riga. Questo è un luogo. E possiamo vedere qui che l'acqua è quasi calma. L'acqua è resta. Ma qui possiamo vedere che il crown del dam, il Ciglion della Liga, è trasportato in modo da permettere il luogo di trasportare le strutture. E qui possiamo vedere che qui, di nuovo, il luogo è blu, ma qui il luogo è blu. C'è un luogo di trasporto di acqua. E quindi, quando abbiamo affrontato il luogo di acqua, bisogna anche modellare l'interazione dell'acqua con l'al. Quindi, quando l'acqua è blu, poi l'al è flotta insieme con l'acqua. Quindi, bisogna prendere in account l'interazione dell'interazione dell'acqua e dell'al. Anche per il design di acqua. Per il design di acqua, bisogna modellare non solo l'acqua di acqua, ma anche l'interazione dell'acqua e dell'al. Quindi, la nostra equazione sarà complicata, sarà più complessa, in modo da prendere anche l'acqua di acqua in acqua. In modo da prendere l'acqua di acqua in acqua. Come potete vedere, la velocità dell'acqua, sull'acqua, 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 è molto grande. La velocità è molto grande. Non è molto semplice, che la velocità può arrivare a circa 30 m per seconda. Solo per avere un'idea, 100 km per hour. Quindi, potete vedere che l'acqua si tratta molto veloce. Quindi, bisogna dissiperare l'energia e stoppare l'acqua. E, sull'acqua, vedete, le dissiperazioni, che dovrebbero essere in una situazione controlla, in modo da calma la velocità dell'acqua. e, questo è un caso. Quindi, qui, possiamo vedere un bacino di dissipazione, un bacino di dissipazione, in modo da dissiperare l'energia. Ma, anche, possiamo scegliere un altro tipo di dissipazione, per esempio, per esempio, per esempio, vedete, la velocità, della velocità, per esempio, questa è la ultima parte della velocità. Ma, in questo caso, la ultima parte della velocità è direttata al cielo. Quindi, l'acqua è direttata all'alto e, come vedete, il jet è molto grande e molto ampio. Quindi, molta l'acqua entra in l'acqua e fa le dissipazioni più effettive in questa energia. In questo caso, per esempio, questa è una foto che si può fare in un'altra parte in un'altra parte della Liga di Las Vegas, per esempio, in cui questa velocità che è chiamata Ski Jump, questo è Ski Jump Speedway perché questa parte è più o meno simile alla Ski Ski Jump e questa configurazione è motivata dal miglioramento della dissipazione dell'energia dell'acqua che è molto grande velocità di circa 100 km per ora e questo è un altro tipo di strutture in particolare un altro tipo di spil che ha una forma strana che si chiamano di gloria che si chiamano come come potete immaginare questo è una foto che si chiamano da monti questo è il chiamano che si chiamano e quando il marco è pieno con l'acqua può fluire nel il spil e può fluire su l'acqua in questo caso il comportamento dell'acqua è totalmente diverso quindi abbiamo un schifo in cui la velocità del fluo è molto grande e bisogna dissipare l'energia ma il spil è un fenomeno in questo caso non è possibile avere un fluo fluo sul luogo perché come vedete il luogo non è un concreto ma un sconso quindi il luogo non può passare sul luogo quindi bisogna fare il luogo fuori dal luogo e in questo caso con il luogo fluo 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 o scuratore ciò compiere non compiere non compiere il valore della riscaldazione potremo compiere il numero di luogo necessario per fare possibile il fluo della riscaldazione luogo potremo optimizzare le basine dipendendo sul tipo finale della ruota in questo caso potremo designare le basine standard basine in questo caso potremo anche designare basine basine le basine le basine potremo potremo compiere le basine le basine come grande è il tutto il spiglietto il spiglietto 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 e tutto quindi potremo compiere qualcosa per designare standard strutture come che sono mostrato in particolare ciò bisogna compiere e compiere le basine di strutture bisogna compiere alcune basiche dell'open channel come ho detto prima avanti perché è più rispetto al tempo quindi cominciamo con definizioni ma poi proviamo le equazioni non usare presentazioni ma usare Blackwood perché mi piace molte equazioni e con scrivere le equazioni potremo introducere alcune caratteristiche come l'uomo critica e l'uomo e poi cominciamo a risolvere il fenomeno fisico come sapete un flore può essere non dipendente tanto da tempo e in questo caso abbiamo un uniform ma possiamo avere gradual flore in questo caso il flore flore classico la velocità e anche il flore flore il flore in questo caso i flore cambiano con l'uomo ma restano costanti con tempo il flore per ma anche il flore transiente flore transiente potremmo la prima volta nella tua vita che affronti il flore transiente flore in cui le fissure flore cambiano con l'uomo ferrissime inserite attempi poi in particolare la domanda ci sono il primo attento di imparare di strutture 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 per esempio la granulata bed o la botta bottom bed ma anche possiamo vedere l'hydraulico jump per esempio l'hydraulico che è molto importante in order to dissipare l'energia come abbiamo visto prima quindi dobbiamo studiare e modellare l'energia ma più importante dobbiamo risolvere le equazioni di medici in modo da ottenere i valori non dobbiamo solo capire non dobbiamo capire non dobbiamo capire che se esplorio una velocità la profondità aumenta non dobbiamo capire non dobbiamo capire per compiere quanto ci sarebbe quindi dobbiamo risolvere dobbiamo fare molte computazioni che non possiamo farlo non possiamo farlo solo utilizzando l'excel come l'excel quindi dobbiamo farlo quindi dobbiamo farlo questo è un'importante parte di questo corso che ci insegniamo per programmare alcuni semplici numerici quindi durante il corso di questo corso ci saranno modelli numerici che ci saranno usate per risolvere l'equazione a causa di metodi numerici in particolare per il quadro per il quadro per esempio per il caso per il quadro 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 più o meno questo tema magari non sapete come risolvere numericamente le equazioni dei dei floi normali o non sapete le metodi numeriche metodi usate per il quadro per esempio il metodo standard il metodo Newton-Rux il metodo il metodo definito il metodo quindi più o meno sapete magari non i dettagli i dettagli numerici ma i dettagli ma sapete i dettagli non sapete questa ultima parte del quadro che sono due dimensioni perché fino a questo punto usiamo la ipotesi in cui la velocità o la velocità non cambia nella direzione transversale del flore per esempio se scherzo il profilo longitudinal di un river dove questo è il flore e scherzo anche una transversale posso vedere qualcosa così questo è un river se facciamo una transversale sezione in una sezione in una sezione di una sezione di solitale se si 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 solitale questa è la poi possiamo solitare il plomio la flore Quindi possiamo scelterci qualcosa di così. È vero che in questa parte il spazio può essere totale, ma per esempio in questo caso probabilmente il spazio del luogo in l'altra parte del luogo è più alto rispetto al spazio del luogo in l'altra parte del luogo. Quindi in questo caso la ipotesi unidimensionale non è sufficiente. Per esempio, c'è una struttura nitratica in cui abbiamo il riscaldamento di acqua che flogge all'interno del luogo, per esempio. Possiamo avere una struttura in cui, quando il luogo di acqua è troppo alto, in cui in questo caso la ipotesi unidimensionale non può essere usata, perché non è capace di capire come questa acqua è fissata con acqua quando il luogo di acqua è troppo alto. Quindi abbiamo bisogno di ricordare, di parlare di luogo di luogo di due dimensioni. E in questo caso le equazioni sono più complesse e, ovviamente, sono più difficili di risolvere le risorse di numeriche. In questo caso, risolviamo le risorse di numeriche, che sono sempre scritte da qualcuno. Ma che potete leggere da l'internet, perché sempre usiamo gli importanti, quindi possiamo vedere il codice, ma anche possiamo utilizzarlo senza avere piacere. Poi abbiamo pagato l'equazione di luogo di due dimensioni, ma anche abbiamo provo di descrivere i metodi, i metodi numerici potrebbero ottenere una soluzione a quella equazione. E poi, alla fine, solo alcune basiche di seguito e di transporte che potrebbero essere molto importanti nel design di alcune delle strutture che abbiamo lavorato durante il corso. Quindi questa è la prima parte. La seconda parte è relativa al luogo idraulico, perché quando abbiamo designato una struttura, non solo una struttura, bisogna sapere i luoghi che servono sulle strutture. In questo caso dovremmo parlare dei luoghi idraulici. Per esempio, ho designato una struttura. Quanto più grande è la struttura del luogo idraulico che dovrebbe bloccare sulle strutture? Dobbiamo sapere questa varia. E la struttura del luogo idraulico dipende dal luogo. Quindi dobbiamo capire la quantità del luogo che viene dal cielo. Quindi dobbiamo capire la struttura del luogo idraulico. Quindi dobbiamo capire la struttura del luogo idraulico. Quando usiamo questo termine, parliamo di una lunga struttura del luogo idraulico. In particolare dobbiamo capire la quantità del luogo idraulico. del luogo idraulico idraulico. Ma anche la probabilità che quella struttura del luogo idraulico possa essere eccezionata durante la vita delle strutture. Quindi dobbiamo capire alcune parole sull'analisi statistica delle datate in modo da definire le luoghi idrauliche necessarie per designare le luoghi idrauliche. E fino a questo punto parliamo di statistiche. Qui parliamo anche di fenomeni fisici. Femomeni fisici Involvati nella trasformazione dell'inflow in un luogo di un luogo idraulico. Inoltre parliamo di ruota che si parliamo di ruota di luogo idraulico. Quindi parliamo di hidrografi. Non solo un numero che riguarda il luogo idraulico, ma anche della evoluzione di luogo idraulico. Per esempio, se questo è il luogo idraulico e questo è il tempo, alcuni metodi, in particolare le prime, le statistiche 1, hanno aiutano ad estimare il valore maximale di luogo idraulico. di luogo idraulico. Anche per capire come il luogo idraulico cambia con il tempo. Quindi, da un punto abbiamo il valore maximale di luogo idraulico. Abbiamo alcuni metodi, alcuni statistici che possono estimare il valore maximale di luogo idraulico. di luogo idraulico. Alcuni metodi sono intenti di proporzare la evoluzione del luogo idraulico. E questa informazione potrebbe essere molto importante. Per esempio, dentro della propagazione di luogo idraulico. Quindi, luogo in questo caso devono essere introdurati come luogo idraulico. Perché luogo è una evoluzione di qualcosa. In questo caso qualcosa è il luogo idraulico. Quindi, se questo è l'evoluzione di luogo idraulico durante il tempo questo idraulico è diverso se misuriamo un altro altro. Quindi, dobbiamo definire l'idraulico in un punto e dobbiamo sapere alcuni metodi e molti metodi in questo caso potrebbe propagare l'idraulico a un altro punto. Quindi, in questo caso dobbiamo usare come vediamo questo vediamo questo vediamo vediamo di il trattamento di trattamento Per ultimo, dobbiamo parlare del design di strutture hydratiche. Quindi, iniziamo dal teoretico effetto dell'avvancede open channel. Iniziamo dall'estimazione delle strutture hydratiche. Possiamo capire i criteri di design di una serie di strutture hydratiche. Per esempio, diversi strutture, le strutture di strutture, le strutture di solture, le strutture di flutture, le strutture di spiglie, le strutture di gate, e, in generale, leaver engineering. In generale, effettivamente, teoretiche, numeriche e statistiche strumenti dei primi due parti del corso in questa parte, che è magari la più importante parte del corso. Quindi, a fine del corso il corso è di designare un sistema complesso di strutture e qui parliamo di come usiamo il termine avanzato. Il corso è anche di proporzare gli studenti con le skills di rischio e anche di designare e gestire strutture in generale. Quindi, a fine, spero che potrete capire i problemi, i fenomeni fisici e capire le soluzioni possibili perché in generale un ingegnere non ha solo una soluzione, ma abbiamo più soluzioni e il nostro lavoro è di scegliere il meglio. Quindi, spero che potrete potrete designare semplici strutture o complessi problemi per fare rischi di rischio ma anche per capire come le strutture scegliate in reale e come sono designate. e una sintesi dei contenuti del first abbiamo in una parte la fisica quindi l'acqua si 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 in una concreta la l'acqua in un altro e la parte la parte abbiamo dettagli del progetto e in la parte abbiamo bisogno di rispondere alle strutture alle strutture in una parte abbiamo la fisica e come possiamo realizzare e realizzare le strutture ma nel medio bisogna sapere l'amore del progetto perché stiamo le strutture le strutture le strutture le strutture in una parte quindi con la fisica del fenomeno di matematica in general matematica quindi dentro di matematica stiamo parlando di analitica modelle di le strutture le strutture soluzione le strutture le strutture la soluzione la soluzione di le strutture E nelle altre parti, i dettagli del progetto, bisogna parlare dei criteri del design, ma nel centro bisogna anche fare un'analisi a una scala grande. Quindi, per esempio, vediamo che qui c'è una zona frequente, una zona che viene allargata frequentemente. Dobbiamo capire dove questo fluggero si tratta, e poi bisogna fare un'analisi a una scala grande, alla scala del mondo, in modo da capire dove possiamo trasformare strutture idariche che possono rendere il riscaldamento più alto per evitare fluggeri. Dobbiamo fare un'analisi territoriali a larga scala che possano, in linea di principio, identificare da una parte quali sono le zone che vengono allagate, ma dall'altra anche dove possono, in linea di principio, realizzare un organo. In questo caso bisogna, non solo, analizzare il problema da un punto di vista piccolo, in questo caso, studiando il fluggero di acqua, quindi, almeno, sono molto vicino al fenomeno. All'altra parte, bisogna disegnare le strutture idariche, quindi, di nuovo, bisogna stare vicino alle strutture idariche. ma per identifichere il progetto. Quindi, se la struttura idarica è necessaria, dove la struttura idarica è necessaria, quando la struttura idarica dovrebbe essere trasformata, per esempio, che vorrei vedere la situazione, da parte, da parte, da parte, da parte, da parte, sul problema, quindi, da parte, da parte, da parte, da parte, da parte, da parte, questo software, anche in questo caso, di Microsoft. Quindi, alcuni dettagli su questo task. dal tema di matematica, ovviamente, bisogna scrivere il modello matematico, quindi, bisogna scrivere l'equazione. E poi, bisogna capire se possiamo solare l'equazione. e, se non possiamo, bisogna semplificare l'equazione, e poi, ottenere le funzioni scientificiche del fenomeno, ma, anche, possiamo risultare la evoluzione numerica dell'equazione. Quindi, nella prima parte del corso, parleremo dell'equazione, le metodi per semplificare l'equazione, le metodi per solare le semplificate, ma, anche, le metodi numeriche necessari per solare le complessive equazioni. Typicamente, queste equazioni sono parziali, derivati, equazioni, D equazioni. E poi, le metodi numeriche sono usate per solare le metodi. E, anche, in questo caso, da un punto di vista pratico, semplificare le soluzioni sono molto veloce. Abbiamo una formula, che è la soluzione delle equazioni, mettiamo i numeri nella formula, e otteniamo qualche informazione. La informazione non potrebbe essere così realizzata, perché sono la soluzione per semplificare le questioni. ma, ovviamente, possiamo avere un'idea generale della metodologia. Quindi, le soluzioni semplificate, anche dal punto di vista pratico, sono molto utili, perché sono veloce e molto semplificate. Quindi, possiamo usare per scegliere la fase preliminare del design per scegliere, per identifichere il problema, per scegliere alcuni tipi di strutture e così via. Ma, quando? abbiamo bisogno di fare un'idea generale quindi, quando è il momento per scegliere le strutture fine radici, quindi, abbiamo bisogno di risolvere le equazioni, non semplificate, le equazioni che sono risolvate utilizzando numeriche risoluzioni. Quindi, tipicamente, quando siamo all'inizio del design usiamo semplificate soluzioni. Quando siamo all'inizio dettagli abbiamo bisogno di usare numeriche metodiche numeriche numeriche in generale. Quindi, l'aspetto di questo corso è, ovviamente, per mostrarvi soluzioni semplificate ma anche per mostrarvi come usare o almeno come implementare numeriche numeriche per scegliere l'equazione del progetto del progetto del progetto. Come possiamo fare una analisi territoriale? Ovviamente, dobbiamo fare questa analisi in modo di identificar le critiche di delle aree delle aree critiche. Quindi, dobbiamo fare un'analisi di grande scale come come ho detto prima, bisogna alcuni usi 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 un'analisi ma anche usi usi un'analisi dettagli che usi 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 leggi scale analisi e starting con leggi scale analisi che possiamo identifichere il progetto ma anche estimare le ruote per esempio il potele in Pescara 100 km da qui bisogna capire anche il rinforo qui perché il rinforo che occorre in circa 5 ore in Pescara quindi bisogna fare un'analisi territoriale su tutto il rinforo del rinforo e alla fine bisogna capire dei criteri criteri e poi bisogna scegliere il tipo di struttura quindi bisogna sapere qualche tipo di struttura poi bisogna scegliere le criteri di particolare struttura e poi bisogna scegliere di struttura perché struttura deve essere in reale e anche in questo caso possiamo fare preliminari analisi quindi in questo caso significa che io selecciono tre due soluzioni struttura preliminari poi possiamo seleccere uno e lo possiamo applicarlo depending per esempio dal costo economico se è difficile trasformare da tecnico se è possibile trasformare struttura di struttura di struttura di struttura abbiamo seleccato durante le fasi di un esempio per esempio vediamo le definizioni del intervento per esempio in questo caso possiamo immaginare che la struttura è troppo alto quindi quando il struttura è troppo la struttura è di esperienza quindi possiamo pensare a parte della struttura di struttura struttura di che di struttura è decretata questa è il progetto poi necessitiamo la definizione del modello ovviamente in questo caso bisogna capire come la struttura in struttura in struttura in struttura in struttura in struttura in struttura e effettivamente struttura struttura nella struttura in modo possiamo risultare la struttura in struttura in struttura in struttura che ci possono guidare le strutture principali strutture che stiamo designando e per esempio dove deployare queste strutture dove deployare queste strutture con rispetto ad esempio alla location di fluttura in questo caso possiamo fare preliminare in Italia abbiamo tre strutture di design preliminare o 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 il segosto da primo ci c il definitivo è definitivo in questa stagione avremmo le principali solucioni quindi il tipo di struttura. Nella fase preliminare possiamo analizzare più soluzioni nella fase definitiva, bisogna selezione uno di loro, quindi il design è più o meno ben definito a questa fase. E poi abbiamo il progetto esecutivo, che è il l'ultimo fase, prima del progetto della struttura. Quindi in questo caso usiamo un metodo semplificato per performare la fase preliminare del progetto, che potrebbe essere dettagli nella fase definitiva del progetto. Quindi noi dobbiamo fare l'analisi con molti soluzioni. In questo caso, l'optimizzazione del progetto, che dettagliamo il migliore delle soluzioni che sono identificati nella fase preliminare. Quindi, solo per avere una sintesi. Ovviamente, dobbiamo sapere le modelle matematiche, ma questo non è un corso. Quindi, il modello matematica non è sufficiente per noi. Dobbiamo fare una risoluzione numerica delle equazioni. Quindi, in un caso, bisogna scrivere il modello, ma anche bisogna soluzionarlo. In un altro caso, bisogna soluzioni semplificate. soluzioni semplificate. Ma questo è solo per la fase preliminare del progetto del progetto. Quindi, bisogna anche numericamente soluzione. Queste sono tre parti del corso. Il modello matematica, ma non possiamo stoppare qui. Semplificate soluzioni, ma non possiamo stoppare qui. In questo caso, bisogna soluzione numeriche. Quindi, bisogna soluzione numeriche. Quindi, bisogna soluzioni. Abbiamo bisogno di soluzioni. In questo caso, bisogna soluzione numeriche e numeriche. In questo caso, ovviamente, possiamo soluzione alcune equazioni che potrebbero fare. Ma anche per soluzione numeriche. e quindi bisogna soluzione numeriche. In questo caso, bisogna soluzione numeriche. Ma per esempio, bisogna soluzione numeriche. le equazioni, quindi le equazioni governate, bisogna programare qualcosa. Quindi, siamo trasportati alla grange generale dell'eurologica, che si chiamano l'euroinformatica. Quindi, bisogna capire come scrivere un programma semplice. Quindi, bisogna capire quale è una lingua, una lingua programma. E bisogna capire come le equazioni possono essere soltate numericamente. Quindi, bisogna capire i metodi numerici, ma questo non è un corso teoretico, non è un corso numerico. Quindi, trasportiamo i metodi in un programma che ci può aiutare con numeri. Quindi, bisogna capire i metodi in questa parte. Iniziamo da le equazioni, qui, fino a le numeri. Nei che bisogna capire il design delle strutture. Quindi, solo un passo più in più, in tutto il contenuto delle corse. Qui si può vedere i aerodinici, i aerodinici, i aerodinici, i aerodinici strutture. che abbiamo parlato prima. Ma in questo caso, i aerodinici e i aerodinici strutture sono collegati a l'altro. Perché, bisogna capire il flore dell'erodinici strutture. Inoltre, bisogna capire i numeri che ci sono necessari per designare i aerodinici strutture. E, due di loro, sono necessari per designare, o meglio, per capire i aerodinici strutture di aerodinici di aerodinici strutture. Come i aerodinici. E, solo per avere un'idea, il corso ha più o meno 100 giorni. E il 20% sarà relato ai esercizi pratici. Quindi, insieme, scriveremo alcuni scritture, usare metodi numerici, e così via. e, circa 80% sarà diventato ai teoreticamente applicati contenuti del processo. Quindi, più o meno, abbiamo 6 settimane dedicati ai aerodinici strutture di aerodinici strutture di aerodinici. In circa 50 ore. Inoltre, abbiamo circa 3 settimane, durante le quali parleremo di aerodinici strutture di aerodinici. Questa è una parte sulle, perché... Non è così finita, perché... ...però bisogna parlare di statistiche, e di data analisi, e così via. Quindi, qui, la fisica non è così importante come per la prima parte. E nella ultima parte del corso, quindi, più o meno, ancora, circa 4 settimane, parleremo del design delle strutture di aerodinici. In la prima parte, nonostante, abbiamo mai più lezione delle strutture di aerodinici. Inoltre, anche per la seconda parte, e la terza parte, ci sarà più oltre con una presentazione, come questo. E questa è la tavola del corso di aerodinici. che si è iniziale, oggi, quindi, da 10 o'alto, circa 1 o'alto. Ma il tempo, è da 10 o'alto, fino a 12 o'alto, fino a 12 o'alto. E poi abbiamo un po' di 1 o'alto e poi finiamo a 1 o'alto. E quindi, siete contenti di questa potenza? Credo. Quindi, credo che dovresti cominciare a 6 o'alto e finire l'alto prima. E poi, l'ultimo, è simile con la prima parte, ma in un'alto. Quindi, tipicamente, ma il settore, la lezione comincerà dopo l'officiale. Abbiamo circa un'ora e l'ora di l'ora e poi finiremo l'ora . Se vuoi cambiare il timetable discutere e proporzare. l'ora è più importante che non posso avere più di tre ore per le ore e total per week should be set. se volete mettete via il accordo se volete cambiare l'orario non voglio sapere niente di domenica e domenica l'importante è che non mi suponete di fare sette ore in un giorno neanche quattro quindi al massimo tre e quindi decidete perché questo live è stato fatto per incastrare tutti i vari corsi nominato da rappresentante un portavoce mettetevi d'accordo e se volete in particolare penso per l'ora di martedì dalle 6 alle 7 ok in che ci sono le metà come ho detto prima di le 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 Io aggiungo i classi live, perchè non venire con il mio programma, ma scriveremo il scritto insieme. E poi il scritto sarà pubblicato alla web, in modo da essere pubblicato da voi. Possiamo avere alcune lezioni su Youtube, perchè Youtube è una delle grandi base di studi. E possiamo andare al lavoro, perchè abbiamo un lavoro grande in questa università. Io sono il head di questo live, e il live è Liam, il laboratorio di live e ambientali. Quindi possiamo descrivere alcuni fenomeni fisici, e poi possiamo vedere alcuni fenomeni fisici. e magari possiamo organizzare alcuni workshop di ricerche o ingegneri, che vengono da l'università. E se possibile possiamo organizzare alcuni fenomeni fisici. ma non sono sicuro. Solo un commento sul mio approccio al insegnamento. Normalmente il professore è vicino da tutti voi, e il lavoro è direttivo dal professore al ragazzo. In realtà, io vorrei parlare con voi, ma anche con voi parlate con me, in modo da mi suggerire qualcosa. Per esempio, se uno di voi vuole apprendere un tipo di struttura particolare, può essere visto come un mio proposito, ma voi potete... Io ho chiesto di suggerirmi altri tipi che saranno interessati per voi, giusto per capire. Se avete qualche proposta, vi posso dire che noi non faremo le dighe, ma faremo più le opere complementari. Se qualcuno di voi è interessato alle dighe, possiamo parlare di quello. Non parleremo dei canali tipo Panama o tipo Suez, cioè le compie di navigazione. Se qualcuno di voi è interessato alle compie di navigazione, ne possiamo parlare. Quindi, in assoluta tranquillità, proponetevi quello che vi pare. Io poi quando le cose rientrano nella finalità del corso, poi piacerebbe che ci fosse questa interazione. Ovviamente, parlando di acqua a dolce, per l'acqua salata, ci manca dolce, quindi... Così che non si truda il popolo. Quindi, come ho detto, in order di fare questo, voi conosciami, ma non conosciami, quindi bisogna conosciami. solo se avete capito, se avete capito di capito di metà che ci sono necessariamente durante le misure. Se avete capito di capito di capito, se avete capito di capito di capito di capito di capito di capito. quindi, ossia, non si truda la vera o la vera o la vera. Solo per farvivi, e la stessa, quasi la stessa, non esattamente la stessa test, le stessa questione, non esattamente la stessa, e le stessa questione, non esattamente la stessa questione, e anche la stessa questione, per la fina, e la stessa questione, per il fine, e quindi, qui ho scritto, non è in cui si tratta di una scena finale, ma per me, per me è una scena finale, non capisci, se l'aspetto del corso è insegnato, e anche il fine, al fine del corso, il test, potrebbe essere usato come una self-assessment della preparazione, quindi potete capire, se avete qualche dubbio su alcuni tipi, alcuni tipi e così via, e, i materiali, quindi presentazioni, come questa, le progetti, quindi scriveremo alcuni nodi, e l'exercise, di costa solida, qui, si, 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 chiederemo, fino a ora, se chiintele, sulle informazioni italiane, te, se volete, lo imprimere, se volete, i materiali, di ultimo anno. Quindi per gli italiani, se volete. Adesso ci sono già le dispensine, gli esercizi d'anno scorso, L'anno scorso c'erano anche le parti regaliche, ma ci saranno più o meno, così che capite neanche cosa si vanno a parlare. E anche, non so se lo sapete, che la nostra università ha alcuni materiali che possono essere usati durante questo corso. Per esempio, potete download for free on cloud. Potete download Microsoft Office, in particolare in Excel. E anche, potete download from Daven and Python. We will discover what is Python in the next lesson. And how the final lesson will take place. Of course, the Italian guys will perform the exam in the dark. So in English, not in the dark. And it will be another test, during which you are told to answer to three questions. Usually, an exam is one hour longer, more or less. Depending on you. And typically, the first question is related on the first part of the program. The second question on the traffic logs. And the third one on the same material. Just to understand, I will write three questions on a sheet of paper. I leave to you and I leave about ten minutes. Just to organize your idea. Just to see the lectures. If something is not so clear. And then, the other example, let me start. Quindi, per capisci, vi do le tre domande. Vi lascio dieci minuti. Vi potreste tenendo un po' che lo fate, come vi pare. Potete anche parlare per di voi, da delle esperienze, come quello che vi pare. E poi, passate 15 minuti, parlate con me su queste tre domande. Poi, quando avete fatto l'esame, potete tenere al modo come no. È più o meno una moletta l'esame. Ovviamente, un dettaglio. Siccome, capite, che se dovessi fare... Poi, se dovessi allenamenti, più o meno, quindi ci potrei mettere anche 20 ore per fare gli esami a tutti. In genere, io lascio totale libertà su quando fare l'esame. Potete venire quando volete, in quanti volete. Anzi, io preferisco, secondo me, venite una volta. Quindi, non abbiate timore su questo. L'unica cosa che vi chiederei è che mi fate durante il periodo didattico. Semplicemente perché sono un po' di posturate il resto. Proprio il resto dell'anno potete venire quando volete. Ho fatto esame il 10 di agosto, il 24 dicembre, o il 2 gennaio. Quindi, non abbiate timore di una tranquillissima. E ora, l'idea era di fare un test di differenza, ma non ho sufficiente. Ci fermiamo un attimo, io vado a stampare. In realtà, come iniziamo a domani, dovremo decidere se iniziamo da 6 o 2 o 2. Iniziamo a domani, iniziamo a domani, iniziamo a domani. Ma vorrei pensare sul rischio, il concetto del rischio. Perché, credo, non lo sappiamo. Iniziamo a domani, il rischio in italiano è il rischio. Ma, da un punto di vista tecnico, il rischio non ha il stesso significato di non tecnico. Per esempio, in inglese, abbiamo due parole, rischio e rischio. Che possono essere tradizionati in rischio, ma non è il stesso concetto. Quindi, abbiamo bisogno di identificare il corretto significato del rischio, e in particolare, in questo caso, il rischio di hydrolico. Quindi, prima di tutto, un po' di parole sulle caratteristiche del rischio di hydrolico. Quindi, in generale, il rischio di hydrolico è relato al rischio. E il rischio di hydrolico è definito da un luogo. C'è un luogo europeo, c'è un luogo italiano, e anche, all'area europea, abbiamo una definizione precisissima di luogo. C'è, più o meno, definita come una recuperazione temporale del luogo dal luogo, sulle sue confine normali. E qui abbiamo una serie di parole, che abbiamo bisogno di discutere. Prima di tutto, temporale. Quindi, in un luogo non abbiamo un luogo, perché l'acqua è presente nel luogo, non temporale, ma per un tempo grande. Per esempio, in questo caso abbiamo un luogo che è fissuto con il luogo di luogo per un tempo lungo, quindi in questo caso abbiamo un luogo di luogo. Quindi, in generale, abbiamo una scala temporale che ci permette di definire un luogo di luogo di luogo come un luogo. anche questa informazione temporale, insieme con questa informazione temporale, abbiamo anche una informazione spatiale. Qui possiamo leggere il luogo. Quindi, l'acqua deve coprire il luogo per grandi luogo. Quindi, in questo caso, possiamo leggere questa definizione. Quindi, il luogo potrebbe coprire il luogo, come un luogo, come un luogo, non un luogo. Quindi, questa è la prima differenza. Il luogo deve coprire il luogo per temporale. e quindi, come un luogo per temporale. Come un luogo, come un luogo per temporale. Come un luogo, come un luogo, come un luogo per centra. Quindi in questo caso abbiamo questi tre sistemi da cui il luogo è originato. Quindi possiamo avere un luogo da un luogo, per esempio se un luogo discurso è troppo alto per essere confinato da un luogo, o possiamo avere un luogo originato da un luogo, per esempio se il luogo del luogo non è sufficiente a farlo con il luogo, il luogo di luogo può essere finito, può essere finito, per esempio un luogo, un luogo vicino, ma anche possiamo avere un luogo da un luogo, quando l'atmospedale è molto alto, quando il luogo è molto alto, quando il luogo è molto forte, il luogo di luogo può aumentare, e il luogo di luogo, ovviamente il luogo di luogo, quindi in questo caso abbiamo il sistema di cui possiamo avere un luogo. E quando un luogo di luogo occorre, ovviamente i bordi del luogo, del luogo, del luogo, del luogo, del luogo, io posso dire che sappiamo la definizione del luogo, quando pensiamo di luogo, pensiamo di un luogo di luogo che è scoperto da un luogo, quando variante è un luogo italiano, piuttosto di un luogo, quando l'acqua occupa una zona di territorio. Se il rischio è rischio, il significato tecnico del rischio non è così ovvio. In effetti, possiamo andare al luogo di luogo, solo per capire cosa è un rischio. Io andavo all'occhio al luogo di luogo di luogo e ho scritto una situazione che ha fatto un'esposizione al luogo. Quando ero all'acqua, ho scritto un luogo di luogo di luogo, ho scritto un luogo di luogo di luogo, un'acqua di luogo o un'acqua di luogo. Come potete vedere qui, il rischio e il rischio sono usati come sinonimi. Ma, in realtà, da un punto di vista tecnico, il rischio è molto diverso da un'acqua di luogo. Sono due cose diverse da un punto di vista tecnico. Ora, di contrôle del Cambriggio che l'acqua di luogo della luogo o fredda di luogo. la possibilità, la chance, qui non abbiamo la chance, qui abbiamo la chance, la chance, la possibilità. Quindi in questi due abbiamo una concepto relativa di probabilità, che qualcosa può effettuare. In la prima cosa, probabilità non è citata nella definizione. Ma, ancora, la possibilità, probabilità, di puri misfortuni o perdere, un'azard. Ancora, un'azard e un rischio è interpretato come sinonimo, ma non sono da un punto di vista tecnico. Quindi, da un punto di vista tecnico, il rischio non è un'azard. So, these definitions are wrong. Indeed, I borrowed hazard here, here, and danger. Danger is, in Italian, pericolo. Indeed, hazard, the Italian translation of hazard, può essere pericolosità, non rischio. Quindi, anche in Italian, cerchiamo di dare un differente significato al rischio e alla pericolosità. Quindi, il rischio non è un'azard. Hazzard, basicamente, è un'errore. Un'errore. Ma, qui, ho scritto solo, non è solo un'errore. Quindi, il rischio può essere definito sulla base dell'azard, ma non è la stessa dell'azard. Questo è il punto di vista principale. Ma, anche, possiamo vedere qui, che abbiamo alcune parole, chance, possibilità, possibilità, che sono relato alla probabilità. Ma, ancora, il rischio non è probabilità. Il rischio non è solo probabilità. Quindi, ho provato a dire che il rischio non è solo probabilità. probabilità, probabilmente, sia probabilità. Quindi, il rischio non è solo probabilità. Il rischio è un'errore. Quindi, è relato alla probabilità. Ma anche, sulle conseguenze di un'errore. Per esempio, se un'errore occorre in un'opente terribile, come, per esempio, una parte di un'errore, senza un'errore, senza un'errore, senza un'errore. Ho avuto il rischio, perché il rischio è il rischio. Ma, ho avuto un'errore, senza un'errore. Perché non ho avuto un'errore. I have not houses, I have not structures, so I have no consequences, so in that portion of land I have the hazard, but I have not the consequences, so I have not the risk. So risk is not hazard, il rischio non è solo la pericolosità, ma quel pericolo deve fare i grandi anni in questo concetto. Indeed, on one end we have the physical phenomenon that induces the flooding, so the environmental loading, rainfall is transformed in the north, the water discharge increases, this is the section of the rivers, if it is too small, and then an overland, so a flow over the land, and this is the environmental loading, the rainfall, and the land response, the overland flow through the flood. On the other side we have the consequences of the land response, so we have the flood, but the flood may damage something or somebody. So in this case we have a kind of toy model, a model just to describe the concept of risk, that in one end, in one part, one side, pose the source, the rainfall, the wind, the low pressure, as you want, whatever you want. And in the other side, the consequences. And in the middle, we have how the source changes thanks to the land response, and in the other side, the receptors to which the consequences are defined. Just for example, the rainfall is the source, but the flow is the pathway, so we have flooding, not because it rains, but because the rains, the rainfall is transformed in the land off, and the land off is conveyed in the river as a water discharge, and the water discharge, and the water discharge, and then we have the flood, so the rainfall is the source, but the river over there is a pathway, so it's percorso. And on the other side, we have the result. On the other side, we have the receptors, a house, a guy that can run, can be jogging in the land and so on, in which, by means of, we can estimate the consequences. So, just as a synthesis. So, just as a synthesis, we have the source, that is a natural hazard. So, here we have a component of the risk, the hazard. So rainfall, waves, wind and so on. And on the other side, we have the source. So, we can have the damage of the infrastructure, environmental degradation, social degradation. So, just for example, I have a historical age area that is flooded by a river. I have not damaged, I have not damaged, I have not damaged, I have not damaged the infrastructure, but I can have cultural consequences. In the region, this natural hazard, rainfall, waves, wind, are transformed, thanks to the physical phenomenon. So, in this case, the rainfall are transformed in flow propagation, abonding over land flow, abonding over flow, the waves in coastal flooding, wind in coastal flooding and so on. So, from the hazard, to the result, the hazard can transform itself. So, just for example, the wind generate waves, the waves propagate to the coast, the coast is flooded. So, here, I have the transformation of the true source. So, we need to understand the pathway. So, from the source to the pathway, there is more or less the physics. From the receptors up to the consequences, we have the human part of the risk. So, the risk is not only utter, because we are part of the risk. Because we can be damaged by the natural phenomenon. So, again, this is to underline that risk is both of the concept of hazard, that is related to probability. And then, if you remember what we said before, we need to characterize the value, just for example, of the water risk rush and its probability. To estimate the value of the maximum value of the water risk rush does not suffice. We need to also to compute, to estimate the probability that this value can be reached or exceeded, during, for example, the technical life of a neurotic structure. So, the hazard. So, the hazard. So, the hazard. So, the value is actually related to its probability. And probability is the chance, the probability, of course, to be reached or exceeded. Because we cannot be sure that the water discarge cannot exceed the value that we estimated. So, we need to compute also the probability. So, we need to compute also the probability. So, the probability is a concept very important within the frame of the risk assessment. Again. So, when we, as we said before about the hydraulic loads estimation, I mean, the estimation of the values and the probability, is actually an information that is also needed to be assessed on risk of a portion of land or territory. And, but, of course, we need also to estimate the consequences of the hazard. So, this is a famous sketch in which, on one side, we have the hazard intensity, the value, but also the probability that this value can be reached or exceeded. On the other hand, we have the so-called vulnerability. So, social, economic, ecological values, susceptibility. So, these concepts are related to the consequences. And the shared area of hazard vulnerability results in the risk. So, we have no risk if we have not receptors. If we have not a house or a guy in the flooded area, we have not risk because we have not receptors. So, risk is different from zero, risk is greater than zero, only if we have both hazard and vulnerability. So, end. So, just to understand from a quantitative point of view, the assessment of risk is simply a multiplication of the hazard and its probability with the value of the damage and the capacity of the system to sustain the hazard. It is very hard. It is very hard to evaluate from a quantitative point of view, the exposure and the vulnerability. Just for example, I have to multiply an hazard that is a value of discouraging the probability that this could be reached or exceeded on one part. Here is the exposure. So, the economic value of a house. And then the vulnerability. If the house has three floors, it is less vulnerable with respect to a one floor house. So, as you can understand, each of these components of risk has a unit of measure, different unit of measure. We can have very, it could be very complex to estimate from a quantitative point of view, the exposure and the vulnerability. So, usually, we can use the technique of grading scale. So, we don't estimate the value of the exposure, but we can say the exposure is very high, high average, very low. In fact, we can say that it is very complicated to estimate from the point of view of the exposure and the value of the building, that you can see, for example, how much cost the house in a certain area. So, if you can imagine that you can see a certain risk of a region, it's not possible. It's a large scale, obviously. So, it's usually referred to a level. If you say, if there are more than five cases, then it's very high. Five cases, I can say, 8 meters per square. If there are more than 100 cases, it's very high. If there are more than 50 and 100, it's very high. If there are more than 20, it's a medium. There are no point of view. So, we can use, we can solve this problem by sorting to the grading scale. But, more in details, here we have a hazard and we can model the hazard because we can have, in general, mathematical model of natural hazard. We can model how the rainfall is transformed in runoff. We have this mathematical model depending on the characteristics of the land. If the land is paved, so it's almost in Paris. So, we can use mathematical modeling to estimate the hazard and we can use statistics to estimate the probability that the value of the hazard is legit or exceeded. So, we are rather, we are able to model this part. The vulnerability is almost the same. Because, just for example, if a land is very steep, if we have a land is very steep, its vulnerability to be flooded is very low. If we have a flat land, if it is very low. If we have a flat land, if it is very steep, Quindi, come potete vedere, la vulnerabilità è relativa alle funzioni fisiche del sistema. E possiamo modellare, per esempio, il runoff, il runoff, due a il rainfall, basato sul modellamento fisico del naturale. Quindi, possiamo avere modelli matematici che modellano, che riproduce le soli, ma anche il passaggio. Quindi, la trasformazione del fenomeno naturale. Per l'altra parte, abbiamo un po' di difficoltà nell'evaluare le conseguenze, perché bisogna fare un'analisi data, spesso a lunga scala e spesso non è possibile estendere questa analisi per una grande parte del rischio. Questo corso è in questa parte blu del rischio. Quindi, in particolare, come capisci, in particolare, abbiamo costruito matematici modelli, anche numeriche soli, che possano fare la simulazione, la produzione delle soli e la trasformazione a causa dell'evaluare, a causa dell'evaluare. Quindi, questo corso aims ad evaluare questa parte del rischio. Questa parte può essere traslato in gradi level, come abbiamo detto prima. Per esempio, possiamo avere, qui ci sono le soli, rinforzi, 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 che è l'increase di livello di l'evaluare, in la città, due a l'evaluare, le pressioni, le pressioni, ma anche l'evaluare. Potremmo avere un'evaluare, un'evaluare, e poi potremmo avere un'evaluare, dei tzunami. Quindi, qui abbiamo le soli, qui abbiamo il pathway, il rinforo è trasformato in discurso, grazie al l'evaluare. Il rinforo è trasformato in discurso, grazie al l'evaluare. Il storm surge è trasformato in un'increase di l'evaluare. Il pathway può triggere le waves, molto lunghe. Per esempio, quando un'evaluare si tratta all'interno dell'evaluare, i rinfori generati possono essere lunghi 100 km, quindi molto lunghi rinfori. E questo pathway è trasformato in flash floods, in questo caso ho un rinforo, molto corto, ma molto intensamente, quindi il discurso aumenta molto rapidamente e abbiamo flash floods, very fast floods. In questo caso abbiamo il rinforo, che è trasformato in discurso, che è trasformato in discurso, che è trasformato dal rinforo, e se la sectione è troppo piccola per trasformare il discurso, poi i rinforzi possono succedere, ma ancora possiamo avere costi del flore a causa del storm e ancora possiamo avere costi del flore a causa del tsunami. Come potete vedere, Iniziamo dalla costa all'inlanda, iniziamo dal basso di questo schermo e iniziamo e il tempo aumenta inizia all'interno di questo schermo. Quindi qui abbiamo un tempo molto corto, qui abbiamo un tempo lungo, alcuni giorni. Come vediamo qui, Tsunami, queste sono alcune ore, questo è almeno un giorno. E questo schermo è relato a questi due tipi, per esempio, Key Vector e Pathway. Quindi studiiamo questo tipo di fenomeno fisico, relato al rischio di rischio. Solo per la vostra informazione, c'è in questa università un'altra cosa che è costa al rischio, che è relato a questo, in particolare, e solo alcune parole su questo. Quindi in questa università abbiamo quasi tutti gli uomini di questo schermo. E questo è un schermo molto chiaro, un schermo qualitativo, in cui possiamo vedere il rio naturale, l'anthropo, le attività antropiche, relativi alle defenso delle flotte. Abbiamo il terra che trasforma il rio in un lanofo. e abbiamo i receptori, come vedete, e alcuni sistemi idraulici che sono necessari perché abbiamo i receptori. Abbiamo un sistema di spettacolo, o un sistema di spettacolo, che è usato per fare il riscaldamento di spettacolo di acqua, per esempio. E in questo caso, il discorso prevede attenzione a questa parte, quindi non parliamo di spettacolo, ma parliamo di trasformazione di luogo in lan-off, come il luogo di spettacolo è rilassato da il luogo, come il luogo di spettacolo in luogo, come il luogo di spettacolo di luogo, e solo parliamo di un punto di vista generalizzato di riscaldamento, nel mondo reale, non parliamo solo di riscaldamento di riscaldamento, perché il riscaldamento di riscaldamento è solo il primo passo. Quindi, abbiamo bisogno di cambiare il riscaldamento. Quindi, in altre parole, abbiamo bisogno di prendere decisioni che possono limitare le conseguenze del riscaldamento. Quindi, abbiamo bisogno di gestire il riscaldamento. In altre parole, se mi suspeito che alcuna parte di luogo può essere fredda, la costruzione delle luogo dovrebbe essere straordinaria. Questo è un tipo di riscaldamento di riscaldamento. Quindi, posso agire prima della fredda di luogo. Esiste del general approach. Quando parlo di valutazione del rischio, non parlo soltanto di valutazione del primo passo, ma anche di gestione del rischio. Quindi, l'esempio che ho appena fatto è quello relativo all'identificazione di un'area che può essere allagata. In quel caso, vieto di costruirci delle case. Anche questo è una gestione del rischio perché lo tengo basso. Perché se io ho una zona che è allagabile, ma non c'è niente, il rischio è zero. Quello che devo fare per mantenere il rischio a zero è vietare qualsiasi cosa che possa aumentare il rischio. Siccome il rischio è costituito dalle conseguenze, cioè dalla ricostruzione e dalla presenza delle persone, dietro di costruire qualcosa. Quindi, io prima, lo valuto. E quindi, io gestisco, cercando di farlo all'entare questo concetto. Quindi, il rischio è il primo passo che è seguito dal rischio. Ma quando la fredda occulta, in realtà, ho bisogno di mangiare anche l'emergenza. perché ho bisogno di fare una serie di persone in una parte della terra che sono bloccate. Ho bisogno di fare le misioni di rischio, ho bisogno di salvare le lezioni e così via. Quindi, ho bisogno di gestire l'emergenza. Ma devo anche bisogno di un sistema di rischio. e posso vedere, posso designare un sistema di rischio se ho conosciuto il rischio. Se ho conosciuto che una parte della terra che potrebbe essere bloccata, posso mesurare il rischio di rischio nel mare, in modo da spiegare un allarm quando il rischio di rischio è più alto. da un limite, per esempio. Quindi, il rischio di rischio e il rischio di rischio sono anche relato alle emergenze. Non sono le stesse. Perché se parliamo di rischio, non parliamo di emergenze. ma l'emergenza può prendere l'avantage del rischio di rischio che abbiamo parlato. Ma come il rischio può essere gestionato? E qui, questa scelta mostravi un po' di storia. perché nel passato, 50 anni, 70 anni fa, normalmente, gli ingineri agavano per la defensa del rischio. Quindi, in generale, hanno disegnato un forte inginero per mantenere il rischio di rischio di rischio. Per esempio, ho questo rio. Se voglio proteggere da un'errore, questo è il rio. Io potrei portare molto forte strutture. Per esempio, questo. 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 Per proteggere da un'errore. E, ovviamente, posso portare un'errore qui. Quindi, nel passato, l'attensione era prevede per la defensa del rischio. E senza preoccupare di rischio di rischio. Quindi, se il luogo non può essere riuscita dalla scelta, ho aumentato la scelta. Questo è il passato. di rischio di rischio di rischio. Dopodiché, per circa 10 anni, qui, alcuni esercizi erano per controllare il rischio. Ma, in realtà, il rischio non può essere controllato. e, in realtà, dopo che hanno cercato di gestire il rischio. Per esempio, abbiamo parlato di rischio di rischio. di rischio di rischio di rischio. di rischio di rischio di rischio. Ma, selezioni attenzione a questi tre approcci come potete vedere, i esercizi erano solo sull'errore. qui abbiamo una un'errore. Qui Qui abbiamo un'errore. Qui potete avere un'errore? Un'errore. E In questo caso, per semplicare il rischio di rischio che ci si sono in questa in questa proiezione. Ma, per la questa attenzione è l'attenzione è pagata solo al luogo recentemente non gestiamo solo il luogo, ma anche i settori quindi il paradigma è molto diverso perché ora gestiamo il rischio, non solo il rischio perché il fluido è il rischio il rischio, uno dei componenti del rischio è il rischio ma non è l'unico componenti, abbiamo anche il rischio per esempio, tornando a l'example di prima se abbiamo un pochino di terra che è pronto a essere fluido la costruzione dei luoghi è straordinario quindi, evoio di diploare un strutturio, non un strutturio un strutturio, un strutturio, un strutturio per diminuire il rischio idraulico come potete capire, qui non parliamo solo dell'acqua che è il rischio idraulico quello che vi sto dicendo è che la gestione del rischio idraulico non riguarda solo l'acqua quello come vi dicevo prima se vieto di costruire una casa in una zona non sto facendo niente sull'acqua non è che sto facendo una vasca di illuminazione a monte non è che sto alzando il piatti non faccio nessun lavoro idraulico ma vieto di costruire nonostante questo io sto a diminuire il rischio idraulico e questo è un cambio di paradigma storico sulla base della quale praticamente sta sorgendo quasi tutto il mondo ovviamente questo è difficile per il costruito non è che posso togliere le case che già esistono esistono dei costi ad esempio in Thailandia dove il governo butta giù le case nelle zone dove ci sono degli allagamenti quindi quindi anche un prodotto alla politica di costi quindi quindi anche un prodotto alla politica di costi questo gestione è relato non solo all'acqua ma anche all'acqua in questo modo è un'altra cosa che posso gestire la usare la terra dove posso usare una casa ma posso solo agire sull'acqua non sull'acqua perché posso non posso per esempio non posso destruire le casse in areas pronti che quindi il rischio è un fattore per il futuro di planare del territorio ma non non la corretta per esempio per esempio per esempio per gestire le strutture in questo caso dobbiamo usare anche flood management o flood effetti flood controllo generale per esempio rischio non solo hazard non solo polar perché hazard è relato al virus ma anche rischio rischio quindi come sintesi in rischio gestione dobbiamo prima di per il flore di luogo, mentre nell'emergenza dobbiamo fare esforzi durante il flore di luogo. E questa cosa, di nuovo, è relativa alla grande azione. Cioè, l'azione, la construzione di una struttura di luogo, per esempio, può diminuire il rischio se il rischio di rischio di rischio. Ma in generale, il rischio di rischio è relato anche al rischio di rischio di rischio e di attività di attività. E questo è tutto per oggi. E noi iniziamo la lezione a presto. Grazie.